Novità per la linea di bus 040, il capolinea di largo Alba Adriatica è stato completamente ridisegnato e messo in sicurezza sul piazzale che dopo anni di abbandono ha ora una nuova regolamentazione dei flussi di traffico. Grazie all'intervento progettato da Roma Servizi per la Mobilità, l'area ha una nuova distribuzione più razionale degli spazi tra bus e traffico privato. La precedente sistemazione infatti metteva in conflitto i mezzi del trasporto pubblico con i veicoli in uscita da via Barisciano, ma soprattutto era pericolosa per gli utenti del trasporto pubblico. Ora ognuno ha il suo spazio, non mancano nemmeno le aree apposite per i cassonetti della spazzatura e per i servizi igienici dedicati agli autisti. Inoltre la pedana di accesso al capolinea è dotata di barriere parapedonali e percorsi per i povedenti.